Benvenuti a questa nuova puntata di sei in salute. Questa sera parleremo di un'eccellenza tutta italiana che abbiamo la fortuna insomma di avere nella nostra Lombardia e precisamente a Pavia perché stasera parleremo del CNAO. Io ho ospite questa sera la dottoressa, spero di pronunciare il nome in modo esatto, Agneska Awaskic, giusto? Ok, medico radioterapista del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Stasera parleremo di adroterapia, insomma è un nome un po' strano e poco usato. Che cosa significa adroterapia? L'adroterapia è una tecnica avanzata di radioterapia che dal 2017 è entrata a far parte dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. A differenza di radioterapia convenzionale che utilizza i fotoni o elettroni, l'adroterapia sfrutta le particelle pesanti, ovvero protoni o ioni carbonio, detti adroni da cui appunto deriva il nome della terapia. Queste particelle dotate di massa e dotate di carica hanno le caratteristiche fisiche e biologiche uniche che le rendono utili per trattare alcuni tipi di tumori. Grazie alle caratteristiche fisiche questo tipo di terapia possiamo dire che è più preciso rispetto a un trattamento convenzionale dove l'azione massima si concentra nel tumore, nella zona da irradiare, risparmiando così il più possibile quelli che sono i tessuti sani adiacenti alla massa. Poi sono quelli che sono le caratteristiche biologiche peculiari per gli ioni carbonio. Queste particelle appunto hanno una caratteristica che sono in grado di trattare le patologie cosiddette radio resistenti, ovvero le patologie che non rispondono bene a un trattamento convenzionale. Queste particelle, cioè gli ioni carbonio, sono in grado a provocare i danni multipli a livello del DNA della cella tumorale maggiori rispetto ai fotoni, anche rispetto ai protoni, ma la cosa importante è che questi danni diventano irreparabili. Assolutamente interessante. Quando pronunciava è estremamente affascinante. Ecco, io so che comunque, anche per sentito dire, anche per essermi documentato, ci sono dei risultati veramente sbalorditivi a volte. Ma per quale patologia in particolare è indicata l'adroterapia? Innanzitutto è indicata per trattare i tumori solidi sia dell'adulto che del bambino, è indicata per trattare i tumori radio resistenti, è indicata per trattare i tumori inoperabili per le dimensioni o anche per la stretta vicinanza adiacenza alle strutture, le chiamiamo critiche, quindi ad esempio i nervi, oppure le strutture ottiche, l'encefalo o il midollo spinale. Dove appunto la chirurgia potrebbe diventare un approccio terapeutico molto invalidante, compromettendo così la qualità di vita del paziente. Entrando un po' più nel particolare delle patologie che trattiamo a Cnau, trattiamo ad esempio i carcinomi adenoidocistici delle ghiandole salivari, trattiamo i meningiomi intracranici che non sono operabili per appunto la stretta vicinanza alle strutture critiche, trattiamo i melanomi oculari, trattiamo i sarcomi, i sarcomi delle ossa, i sarcomi dei tessuti molli che sono comunque i tumori notoriamente radio resistenti, quindi i sarcomi del distretto massiccio facciale, i sarcomi paraspinali, i sarcomi pelvici, anche i tumori che hanno recidivato nella zona che richiede un ritrattamento, si trova vicino a qualche struttura critica, un organo critico e richiede un ritrattamento. Assolutamente importantissimo. Ecco, quando si parla di radioterapia, quando si parla di radiazioni, qualcuno ha sempre un po' timore e paura, ma esistono delle controindicazioni? Sì, ci sono ovviamente alcune controindicazioni oppure le situazioni in cui il trattamento adoterapico non può essere somministrato. Va forse sottolineato che l'intento principale del trattamento adoterapico è quello curativo, quindi i pazienti che sono affetti dai tumori nello stadio avanzato, sia localmente che con le metaste a distanza, quindi le localizzazioni diffuse nei distretti corpori, in questo caso probabilmente l'adroterapia non è il trattamento ideale, il paziente dovrebbe essere sottoposto a un trattamento chemioterapico. E' importante valutare lo stato clinico generale del paziente. Ci possono essere delle condizioni con le patologie concomitanti internistiche dove il paziente magari non sarebbe in grado a sostenere un ciclo lungo di adoterapia. Le situazioni in cui nella zona da irradiare si trova uno stato di infezione in atto o magari l'acute sovrastante, la malattia è ulcerata, lesionata, l'adroterapia non potrebbe essere indicata per il rischio di compromettere la guarigione della zona. Poi ci sono le situazioni in cui magari il tumore si trova in una posizione dove l'accesso delle particelle diventa complicato. Ad esempio i tumori addominali dove sono posizionati vicino all'intestino, che è una struttura molto sensibile, dove il rischio di tossicità grave è molto molto alta. Altrettanto ci possiamo trovare di fronte a delle modifiche anatomiche postchirurgiche, per esempio, dove un piano di trattamento non potrebbe essere elaborato in modo ottimale per questo paziente. Oppure le situazioni in cui ci troviamo di fronte a una stabilizzazione postchirurgica in titanio, dove le particelle non si comportano in modo che noi possiamo prevedere. Quindi c'è il rischio di un piano non ottimale dal punto di vista dosimetrico di comportamento delle particelle. Quindi, vista questa ampietà dei possibili scenari, è comunque importante discutere ogni singolo caso a livello multidisciplinare per appunto trovare un trattamento migliore per ciascun caso. Ovviamente quando dice multidisciplinare abbiamo l'oncologo, abbiamo tutta una serie di persone. Abbiamo l'oncologo, abbiamo il chirurgo, abbiamo altri radioterapisti che si occupano del trattamento convenzionale. Quindi ci sono diverse opzioni terapeutiche da poter proporre al paziente. Quindi diciamo che poi vedremo esattamente come funziona il trattamento anche a livello del paziente. Però per arrivare all'adroterapia c'è giustamente una fase tutta, chiamiamola, di reclutamento ovviamente, fatta di una serie di analisi e valutazioni. Esatto, il percorso del paziente inizia appunto con una valutazione preliminare. Il paziente si può autocandidare seguendo dei canali, dei percorsi che sono indicati sul nostro sito, inviando alla nostra attenzione la documentazione clinica radiologica, ma la strada magari più corretta e più agevolata è quella appunto delle discussioni multidisciplinari. Noi come staff medico partecipiamo attivamente a diversi incontri con altri istituti, altri centri che si occupano nella cura di queste patologie rare. Quindi se in questa fase preliminare lo staff medico ravvede un'iniziale indicazione al trattamento adroterapico, il paziente viene poi invitato ad eseguire una sua prima visita ambulatoriale presso il nostro centro. Questa visita è fondamentale dove appunto in modo molto dettagliato raccogliamo tutte le informazioni che riguardano la storia fisiologica, patologica, oncologica del paziente. Raccogliamo tutte le informazioni che riguardano la sintomatologia dovuta sia dalla malattia che dai trattamenti eseguiti in precedenza. In questa fase dove è necessario il medico radioterapista può richiedere anche degli esami aggiuntivi oppure degli esami che sono propedeutici a poter eseguire il trattamento adroterapico. Se in questa fase viene confermata l'indicazione al trattamento, il paziente successivamente viene sottoposto a cosiddetta simulazione al trattamento. Questa simulazione consiste nel scegliere sicuramente la posizione in cui il paziente debba essere trattato. In questa fase c'è una stretta collaborazione tra il medico radioterapista e il tecnico sanitario di radiologia. Quindi un momento molto delicato che richiede tanta attenzione. Vengono confezionati cosiddetti sistemi di immobilizzazione che ci permettono di tenere il paziente posizionato sempre nella stessa posizione e ben immobilizzato sul lettino del trattamento. Questi sistemi includono dei cuscini modellati, dei supporti particolari. Intanto vediamo qualche immagine del trattamento. Esatto, questi sono i sistemi di immobilizzazione. Qui per esempio vediamo la maschera termoplastica che comunque blocca la testa, blocca le spalle agganciata al lettino del trattamento. Quindi comunque il paziente resta immobilizzato. Dopodiché questa è la sala del trattamento. Quindi questa è la posizione di un trattamento a livello encefalico probabilmente. Benissimo. Io adesso do la linea alla Regia per il primo blocco di pubblicità ma tornate con noi perché con la dottoressa Agneschio continueremo a parlare dell'adroterapia. Bentornati con l'Ori di Sen Salute. Questa sera stiamo parlando di adroterapia. Abbiamo già visto insomma come è il trattamento o meglio come il paziente poi si sottopone all'adroterapia. Domanda però è come avviene tutto il ciclo terapeutico. Abbiamo visto insomma la preparazione, la fase tra virgolette propedeutica. Ovviamente c'è un ciclo, ci saranno anche più cicli ovviamente a cui si dovrà sottoporre. Sì esatto. Partendo un pochettino magari da quello che una singola seduta è un processo complesso e ben coordinato che comunque coinvolge diverse figure professionali. Quindi il paziente viene posizionato sul lettino del trattamento in una posizione appunto decisa già durante la simulazione viene immobilizzato con i suoi sistemi personalizzati portato in sala di trattamento dopodiché la zona da irradiare viene allineata tramite dei segni che abbiamo posto sui sistemi di immobilizzazione oppure sulla cute del paziente con i laser parietali che si trovano in sala di trattamento. Quindi questo è il primo step di allineamento del paziente. Dopodiché vengono acquisite le immagini radiologiche che ci permettono di allineare ancora in modo più preciso il paziente questi sistemi, queste immagini si basano principalmente sui reperi ossei. Una volta posizionato in modo preciso allineato il paziente il tecnico avvia la seduta del trattamento. Una seduta dura circa 20-30 minuti considerando anche il tempo appunto di posizionamento di tutti i controlli. Ci sono poi casi specifici in cui questo tempo può essere molto più lungo dove le masse comunque sono molto molto voluminose dove il tempo di irraggiamento è molto più lungo. Il ciclo intero di adroterapia può durare 4 settimane somministrando il trattamento 4 volte alla settimana per gli ioni carbonio per i trattamenti che prevedono questa particella. Per i trattamenti con i protoni sono previste 6-7 settimane con le frazioni somministrate 5 volte alla settimana. Poi ci sono dei casi particolari in cui magari questo tempo complessivo può essere più lungo, può essere più corto in base a caso specifico. Durante tutto il percorso del paziente, durante il trattamento, vengono svolte comunque le visite con infermiere, con medico radioterapista per valutare quelli che sono gli effetti acuti del trattamento dove il medico comunque prescrive eventualmente delle terapie di supporto per gestire questi effetti acuti. Una volta terminato il trattamento, il medico radioterapista programma le visite di controllo, le visite di follow-up che includono sia la parte radiologica per valutare la risposta al trattamento ma anche la parte clinica ambulatoriale dove il paziente viene visitato per valutare e gestire gli effetti collaterali che possono arrivare anche tardivamente. Ecco, mi piacerebbe conoscere quali possono essere gli effetti acuti, gli effetti collaterali anche per tranquillizzare le persone che stanno a casa. Principalmente gli effetti si dividono in quelli che sono acuti che compaiono in corso di trattamento nei giorni e nelle settimane successive alle sedute, al ciclo. Quei effetti acuti sono dovuti dall'infiammazione, comunque sono sempre gli effetti locali, sono sempre localizzati nella zona irradiata. Quindi questi effetti acuti provocano l'infiammazione, quindi nei pazienti che eseguono il trattamento a livello cervico-cefalico possono subire delle infiammazioni, delle mucose, magari qualche piccolo sanguinamento dalle narici, arrossamento dell'acute, congiuntivite. Però sono tutti comunque i sintomi transitori. Una volta che l'infiammazione va via, questi effetti non danno più il fastidio al paziente. Poi subentrano quelli che sono gli effetti tardivi. Gli effetti tardivi compaiono a distanza di alcuni mesi, a volte anni, una volta terminato il trattamento. Sono sempre locali, quindi sono sempre dovuti dall'irraggiamento della zona. Possono essere permanenti e sono dovuti dal danno a livello delle cellule, perché quello che irradiamo è il tumore, però vicino al tumore si trovano anche le strutture che sono sane. Anche queste strutture possano subire un danno. Però ecco, voglio dire, si tratta sempre di un irraggiamento molto, ma molto mirato. Sì, un irraggiamento mirato, però dobbiamo considerare che preparando il piano di trattamento ci basiamo sì sulla malattia macroscopica, quella che per esempio si vediamo alle immagini radiologiche, per esempio la risonanza, però conoscendo un pochettino il comportamento di ognuna di queste malattie, a volte dobbiamo dare un margine al target, alla zona da irradiare, dove c'è il rischio magari di infiltrazione microscopica, quella che non si vede macroscopicamente alle immagini, quindi comunque lì si trovano i tessuti sani che appunto possono subire il danno. domanda molto banale, però giustamente anche questa per tranquillizzare le persone che ci seguono. Uno fa la sua terapia, poi torna tranquillamente a casa, fa una vita completamente normale e regolare. Sì, esatto, si compatibilmente un pochettino con questi effetti acuti, però sì, il paziente comunque torna a casa con le sue terapie di supporto, è assolutamente autosufficiente, possiamo dire così. Perfetto. Ecco, veniamo invece al cuore dell'adroterapia che è questa macchina assolutamente affascinante che è il sincrotrone. Già il nome, insomma, ecco, vediamo proprio un'immagine che è assolutamente affascinante, ricorda molto quello più famoso, l'acceleratore di particelle di Ginevra. Molto più piccolo, ovviamente, però insomma è una macchina molto affascinante. Vogliamo descriverla esattamente di che cosa si tratta e che cosa fa? Allora, il sincrotrone è un complesso acceleratore delle particelle, un acceleratore circolare e ciclico. La sua funzione consiste nel scomporre gli atomi. Ecco, parte giustamente il video del percorso che fa la particella. Sì, sì, sì. Quindi, dall'atomo scomposto, vengono selezionate le particelle subatomiche, che nel nostro caso selezioniamo i protoni, i onicarbonio, a scopo del trattamento oncologico. Il nostro sincrotrone è il figlio più piccolo di quello che si trova appunto al CERN in Ginevra. Però, a differenza delle macchine a scopo di ricerca fisica, il nostro è stato progettato e realizzato per i trattamenti nell'ambito oncologico. Il sincrotrone, comunque, il nostro ha il diametro di 20 metri e la circonferenza di 80 metri circa. Le particelle nascono da due sorgenti. All'interno delle sorgenti si trova il plasma. Cosa è il plasma? È una sostanza composta dagli atomi dei gas che sono privi di elettroni. Dal plasma, tramite dei sistemi di radiofrequenze, i magneti, vengono estratti gli atomi e vengono selezionati i protoni, ogni carbonio, che formano poi i pacchetti di particelle. Ogni pacchetto è composto da miliardi di particelle. Questo pacchetto viene preaccelerato per poi essere iniettato nell'annello del sincrotrone. Dopodiché, ulteriormente, viene accelerato con dei sistemi di campi elettromagnetici, un sistema molto complesso. Una volta che raggiunge una velocità, ma più che altro un'energia richiesta, il fascio, il pacchetto delle particelle, viene poi trasportato in una delle tre sale di trattamento. Assolutamente affascinante. Ovviamente, qualcuno può spaventare di questa cosa perché stiamo parlando alla fin fine di fisica nucleare, voglio dire. Però, voglio dire, ovviamente sono tutte strutture sotto, ben protette, anche, soprattutto per voi che ci lavorate. Certo, sì, sì, sì. Il sincrotrone si trova in un bunker che è isolato dalle pareti che variano tra due e sei metri fatte di cemento armato. Quindi, comunque, è isolato dal mondo esterno, dalla struttura, quindi tutto il personale, anche i pazienti, comunque, oppure gli accompagnatori sono assolutamente al sicuro. Ecco, seguendo poi il percorso che fa la particella, a livello del paziente, cioè, com'è che viene irradiato? Com'è che raggiunge poi quello che deve sconfiggere, che poi è il tumore alla fin fine? Sì, possiamo immaginare che un fascio dei protoni è come un pennello, ecco, che è un pennello comunque controllato e monitorato. È tutto molto sicuro, molto preciso. Il paziente che si trova in sala di trattamento viene monitorato in tempo reale dalle telecamere ad infrarossi. Queste telecamere percepiscono ogni minimo singolo movimento del paziente. Poi, la precisione del fascio che arriva in sala di trattamento viene comunque gestito e controllato da due magneti. Questi magneti ricevono tutte le informazioni dai sistemi di controllo e monitoraggio e muovono, spostano il fascio, spostano questo pennello lungo il profilo del tumore. Quindi, fetta per fetta il tumore viene pennellato dalle particelle e questo pennello arriva sempre più in profondità del volume tumorale e questo ingresso in profondità avviene grazie all'aumento dell'energia del fascio. Molto affascinante, assolutamente. Quindi, voglio dire, questo pennello va poi a colpire, abbiamo detto giustamente, sempre monitorato, stiamo parlando comunque di strutture computerizzate, immagino. Sì, sì, tutto come computerizzato, assolutamente, alta tecnologia sviluppa doc a scopo di trattare queste patologie, degli algoritmi assolutamente sviluppati di nuova tecnologia. Certo, certo. A questo punto io do la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate con noi perché continuiamo questo viaggio bellissimo tra quella che è la fisica sanitaria. ben tornati con noi di Se in Salute, questa sera stiamo parlando dell'adroterapia. siamo anche un po' curiosi, perché stiamo parlando di una struttura comunque di un'eccellenza italiana che c'è tra l'altro nella nostra regione nella Lombardia ed è molto affascinante e soprattutto veramente c'è qualcosa di cui vantarsi a un certo punto di vista. Cercavo di conoscere un po' più da vicino come nasce quali servizi dà com'è possibile accedere insomma? Cnau è una fondazione non profit che è stata fondata dal Ministero della Salute nel 2001 è nato in collaborazione con diversi istituti diverse strutture tra questi Università di Pavia Istituto Nazionale di Fisica Nucleare anche il CERN di Ginevra quindi nasce la fondazione a scopo di ricerca a scopo di trattare le patologie oncologiche difficili attualmente si è sviluppato un percorso ben consolidato sappiamo quali patologie possano beneficiare di questo tipo di trattamento ci sono dei canali ben definiti con i quali il paziente possa accedere a questo tipo di terapia collaboriamo comunque con tanti altri centri di ricerca e di cura quindi comunque stiamo in una fase sempre di sviluppo c'è anche un progetto di espansione in corso che sarà terminato a breve quindi anche questo è un punto importante dove ci saranno altri macchinari altre possibilità di cura il CNAW in questo momento è composto dai diversi dipartimenti tutte le figure di ognuno di questi dipartimenti comunque si rende conto che al centro c'è il paziente quindi ognuno lavora in modo sincrono con altre figure per appunto garantire le cure migliori quindi il paziente in realtà incontra durante il suo percorso di terapia soltanto alcune di queste figure quindi il medico radioterapista medico radiologo infermiere il tecnico però vicino a tutto tutto questo percorso ci sono anche i fisici di diverse specialità ci sono ingegneri che comunque lavorano sempre per sviluppare migliorare la tecnologia che offriamo c'è tutto tutto un percorso abbastanza ben complesso ben sviluppato comunque vuol dire l'attività di ricerca ovvio che la primissima attività è quella di cura ai pazienti va da sé però cioè vuol dire è un istituto comunque di ricerca cioè la ricerca nella vostra voglio dire routine quotidiana impegna veramente molte ore sì dobbiamo comunque dire che Cnau è nato non solo per la cura ma anche per la ricerca quindi questo questo è un punto un punto importante poi comunque l'adroterapia è una una terapia innovativa quindi in uno stato di ricerca continuo abbiamo ancora ancora tanto da scoprire tanto da ricercare ne siamo consapevoli poi come ho detto ci sono diversi dipartimenti ognuno di questi dipartimenti lavora e ricerca sui diversi diversi livelli c'è il dipartimento di alta tecnologia che lavora vicino al sincrotrone per migliorare sempre la tecnologia per migliorare sempre la qualità del fascio c'è il laboratorio di radiobiologia che comunque lavora a livello molecolare cellulare abbiamo la sala sperimentale che comunque si lavora la notte lavora nel fine settimana dove il fascio non è occupato per trattare i pazienti c'è la ricerca a livello fisico medico i nostri sistemi di pianificazione vengono sempre implementati vengono sempre migliorati per ottimizzare al massimo quelli che sono i piani di cura del paziente poi sono quelli che sono i studi clinici i studi di ricerca quindi abbiamo diversi protocolli attualmente in atto che ricercano di migliorare di trovare magari nuovi protocolli di trattamento nuovi schemi di trattamento come ad esempio il protocollo Sibacirte per i trattamenti nel distretto testacollo con gli ioni carbonio ci sono i protocolli per capire per mostrare il vantaggio di questa terapia per le patologie ginecologiche per esempio o per alcuni tipi di sarcomi o cordomi del sacro quindi è tutto tutto molto bello molto interessante e quello che è importante è che collaboriamo anche con tanti altri istituti anche stranieri qualche stranieri sì ci sono aperte tantissime collaborazioni con altri centri di adroterapia di ricerca in questo ambito in Giappone in Austria in Germania oppure negli Stati Uniti quindi ecco immagino che i vostri pazienti arriveranno anche da non solo voglio dire dalla nostra Lombardia ma un po' da tutta Italia perché insomma è assolutamente un centro di eccellenza ripeto tutto completamente italiano in genere com'è che arriva un paziente a voi ovviamente voglio dire dal suo percorso terapeutico dove si trova lungo lo stivale italiano accede poi direttamente da voi allora i percorsi sono principalmente due come ha detto lei i pazienti arrivano da tutto il territorio nazionale ci sono anche i pazienti internazionali il paziente si può autocandidare sul nostro sito internet è specificato tutto il percorso su come inviarci alla documentazione clinico-radiologica per poter poi essere valutata dal medico-radioterapista e poi ci sono quelle che sono le discussioni multidisciplinari quelle che ho spiegato prima quindi è una via magari più agevolata e quella più corretta per la gestione di questi pazienti molto complessi molto delicati quindi comunque stiamo in contatto continuo con i colleghi radioterapisti oncologi medici chirurghi dei diversi centri italiani che ci riferiscono i loro pazienti ecco io so anche per ho detto mi sono documentato comunque voglio dire conosco anche amici e colleghi che hanno avuto la sfortuna della malattia però la fortuna di essere poi venuti da voi hanno avuto dei risultati veramente sbalorditivi nella sua pratica clinica si è riscontrata con qualcosa la sbalordita del risultato che avete avuto si osserviamo veramente dei risultati eccezionali giustamente la ricerca continua perché non sempre riusciamo ad ottenere il controllo locale magari a lungo termine però vediamo veramente tanti benefici in termini di controllo locale di queste patologie difficili e rare io ho sentito anche di regressione addirittura del 50% cioè cose veramente quasi da non credere quando insomma te le raccontano quindi voglio dire è sicuramente qualcosa veramente di incredibile ecco io vorrei perché giustamente voglio dire è un valore che abbiamo noi tra l'altro siamo anche un po' orgogliosi ce l'abbiamo noi in Lombardia che tesse alle persone che ci stanno seguendo a casa qualche consiglio pratico cioè rivolgetevi a noi perché noi siamo l'eccellenza allora come come spiegato prima sul nostro sito internet si trovano tutte le informazioni riguardo sicuramente le patologie che possiamo trattare quindi il paziente può sicuramente consultare il nostro sito e vedere se magari il suo tipo di patologia rientra nell'elenco del sistema sanitario nazionale o magari rientra in uno dei protocolli clinici che abbiamo attualmente in atto può inviare alla nostra attenzione la documentazione è tutto ben spiegato quindi tutte le informazioni si trovano lì però altrettanto importante che il paziente discuta attentamente il suo caso le possibilità di cura con il suo medico di riferimento con l'oncologo il radioterapista il chirurgo che lo sta seguendo perché come ho menzionato prima è molto importante la discussione multidisciplinare quindi i medici di riferimento del paziente possono contattare noi possono presentare il paziente alle discussioni multidisciplinari dei centri di riferimento per le patologie rari quindi quindi sì siamo assolutamente in collaborazione con tutti e accogliamo volentieri i pazienti ecco la cosa che voglio sottolineare è che comunque è un servizio dato dal sistema sanitario nazionale la gente magari si spaventa e dice caspita questa bellissima cosa ma chissà cosa mi possa costare chissà cosa invece no è un presidio del ministero della salute assolutamente sì è un trattamento rimborsato quindi nel momento in cui la patologia specifica si trova nei livelli essenziali di assistenza quindi c'è una chiara indicazione il paziente arriva da noi con l'impegnativa del medico curante quindi è tutto rimborsato e soprattutto teniamo a sottolineare l'abbiamo già detto ma che non ha controindicazioni a parte quelle ovviamente di cui abbiamo discusso quindi non facciamoci spaventare dalla tra virgolette l'energia nucleare esatto sì l'energia nucleare può essere anche d'aiuto in questo caso in questo caso sì la sfruttiamo per trattare queste patologie difficili sì benissimo io ringrazio la nostra ospite di questa sera spero di ripetere esattamente il nome dottoressa Agneschia Awaschi sì ok medico radioterapista del centro nazionale di adroterapia oncologica di pavia ecco vogliamo dare il sito web del Cnau assolutamente sì che è www.fondazionecnau.it ecco esatto quindi voglio dire rivolgetevi al sito per sapere tutte le informazioni stasera ne abbiamo date un po' però mi rendo conto abbiamo anche toccato argomenti che sono anche un po' ostici un po' difficili da trattare grazie ancora dottoressa grazie mille grazie dell'invito grazie per quello che fate perché insomma ripeto è un orgoglio lombardo che possiamo vantare insomma verso tutta l'Italia io come sempre vi do appuntamento alla prossima stagione questa è l'ultima puntata della stagione insomma siamo arrivati all'estate cerchiamo di goderci cerchiamo soprattutto di stare in salute vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web il nostro sito web della nostra trasmissione che è www.informatv.it il sito web nostro di informazione medico scientifica che è www.tecnomedicina.it e perché no ascoltare i nostri podcast che potete trovare su Radio Salus che è raggiungibile dall'indirizzo www.radiosalus.com come sempre ringrazio non solo per oggi ma per tutta la stagione televisiva che mi ha accompagnato insomma ci ha donato della sua tecnica tra virgolette Andrea in regia ringrazio l'emittente se è la tv per averci dato la possibilità di fare un po' di divulgazione scientifica ringrazio la nostra società RBM Group e come sempre in finale trasmissione auguro a tutti buona salute ma soprattutto buona estate grazie a tutti Grazie.